capitolo 14 dalla cima della scala si passava in una stanza quadrata illuminata da un'unica lampadina che pendeva dal soffitto mai avrei detto che una lampadina nuda potesse apparirmi bella e invece era proprio così era un segno che ci stavamo allontanando dal sotterraneo degli orrori per avvicinarsi al mondo reale e io ero pronto a tornare a casa la stanza in pietra aveva due porte una davanti alla scala l'altra sulla destra da dietro la prima giungeva forte e chiaro l'allegra una musica da circo quando la porta fu aperta fummo inondati dalla musica ed una marea di colori sgargianti scorgemmo centinaia di persone in movimento e un'insegna lampeggiante che non c'ava palazzo dei divertimenti quella sorta di carnevale all'interno di un edificio mi fece capire subito dove mi trovavo nel circo dei dannati presi subito un appunto mentale alcuni dei vampiri più potenti della città dormivano quindi sotto il circo mentre la porta si chiudeva attenuando la musica e nascondendo i colori delle luci incontra lo sguardo di un adolescente che cercava di sbirciare all'interno subito dopo l'uscio si chiuse con uno scatto al battente si adossò un uomo alto snello abbigliato con un biscazziere uscito da via col vento giacca porpora cupo col collo a quei bordi di pizzo pantaloni e stivalli neri un cappello gli ombreggiava il viso nascosto da una maschera d'oro che lasciava scoperta soltanto la bocca e il mento attraverso la maschera occhi scuri di miscrutarlo poi la lingua guizzò sulle labbra e sui denti zanne un vampiro chissà perché non ne ero sorpresa tabava di non incontrarti salminatrice disse il vampiro della maschera d'oro con uno spiccato accento del sud e rise quando winter avanzò per mettersi fra lui e me una risata aspra e scoppiettante il forzotto crede di poterti proteggere devo farla a pezzi per dimostrare che sbaglia non sarà necessario risposi mentre zaccari mi si affiancava riconosce la mia voce domandò il vampiro scossi la testa sono passati due anni prima che cominciasse questa faccenda non sapevo che tu fossi la sterminatrice ti credevo morta possiamo darci un taglio chi sai e che vuoi quanto ardore quanta impazienza quanta umanità il vampiro sollevò le mani guantate togliersi il cappello rivelando i corti capelli che stanno romati ti prego non farlo intervenne zetteri la master mi ha ordinato di accompagnare la donna alla sua auto sana e salva non intendo neppure torcerle un capello per stanotte le mani guantate rimossero anche la maschera d'oro non stando la metà sinistra del volto probabilmente sfigurata tanto che nella massa di tessuto cicatriziale bianco rosio era indenne vivo soltanto un occhio marrone l'effetto dell'acido sulla carne è identico ma a ridurlo così non era stato l'acido bensì l'acqua santa trammentare il vampiro che mi inchiodava al suolo le sue zanne che mi strizzavano il braccio mentre cercavo di impedirgli di squarciarmi la gola lo schianto delle ossa spezzate asserrarsi delle sue mascelle le mie urla e la sua mano che mi stringeva la testa all'indietro il suo busto che si innalzava per colpire benché non avesse difeso e lui aveva mancato il collo non ho mai capito perché le zanne erano affondate invece intorno alla clavicola le avevano spezzata e poi lui come un gatto con la crema aveva leccato il mio sangue e io schiacciata sul suo peso lo avevo sentito farlo lo sciocco mi aveva temporaneamente protetto dal dolore delle fratture quindi a poco a poco la poca capacità di trovare sofferenza e paura si era risolta ma avevo cominciato a morire allora avevo frugato tra l'erba con la mano destra fino a toccare un oggetto liscio vedo una fiale d'acqua santa che era caduta dalla mia borsetta e quindi usata degli schiavi sull'umano del vampiro ne avevo sparso il contenuto al suolo senza neppure guardarmi lui era rimasto con il viso schiacciato sulla ferita a frugare con la lingua mastivando l'osso scarnificato e aveva riso dalla mia spalla mentre io sfrillavo rideva perché mi stavo uccidendo lentamente allora avevo aperto la fiala gettandogli la faccia alla cua santa la pelle si era gonfiata e scherpolata al ribollire della carne e il vampiro in ginocchio sopra di me si era apertato le mani verso il viso ormai sfigurato gridando avevo creduto che in seguito fosse rimasto intrappolato nella cazza incendiata avevo cercato di ucciderlo e avevo sperato che fosse morto desiderando allontanare se non cancellare il ricordo di quella notte e invece il vampiro era lì di fronte a me il mio incubo aveva preso vita come? non strelli d'orrore? non ansimi di paura? mi drudi sterminatrice? non sei fiera della tua opera? ti credeva Marta? risposi con voce soffocata adesso sai che non è così e io ora so che tu sei viva è un conforto sorrise e la metà sfigurata del volto trasforma quel sorriso in una smorfia orribile neppure i vampiri sono in grado di guarire completamente da qualcosa così puro l'eternità sterminatrice sarà così per l'eternità con una mano quantata si accarezza l'ammasso di un testo cicatriziale che vuoi? sei coraggiosa ragazza sei coraggiosa quanto desideri essere posso percepire la tua paura ma voglio vedere le cicatrici delle ferite che ti ho infletto per assicurarmi che ricordi ma proprio come io ricordo te te ricordo le cicatrici ragazza mosso le cicatrici va bene posso farlo e poi poi te ne torni a casa e vai dove vuoi la master ha ordinato di non nocerte finché non avrai portato a termine il tuo incarico per noi e poi tra un ampio sorriso ho capito scoprire la tentatura zannuta poi darò la caccia e ti pagherò per questo conto che mi inflicco si accarezza il viso sovia ragazza non essere timida ho già visto tutto quanto e ho assaggiato il tuo sangue mostrando le cicatrici e posso continuare a morire per dimostrare quanto è potente guardai winter che aveva le braccia incrociate sul petto i pugni chiusi e la schiena quasi vibrante per l'attenzione il vampire aveva ragione pur di proteggermi era pronto a battersi e morire così sollevai la manica strappata mostrando il tessuto cicatriziale che mi ornava la piega del gomito e le cicatrici che da esse si diramavano verso l'esterno dell'avambraccio in direzione del polso all'interno invece l'unica zona indenne mostrava la cicatrice dell'ossione a forma di croce si aveva talmente straziato quel braccio che credevo non avresti mai più potuto usarlo di nuovo la fisioterapia è spaventosa stronzo nessuna fisioterapia può aiutare me già il primo bottone della camicetta era strappato mi bastò sbottonare il secondo e aprirla per denudare la clavicola ricoperta di quegli ammassi cicatriziali che mi rendono assai attraente in costume da bagno bene commentò il vampiro hai l'odore del sudore giallido quando pensi a me ragazza e io speravo che il mio ricordo ti ossessionasse proprio come me il tuo ricordo ossessiona me c'è una differenza però e quale sarebbe? tu stavi cercando di ammazzarmi io invece volevo difendermi e perché hai tutta l'entrata nella nostra casa? per conficcare un paletto nel cuore a ciascuno di noi eri lì per distruggerci anche se non ti stavamo dando la caccia però avete già dato la caccia ad altri 23 persone troppe bisognava fermarvi sei forse una divinità? chi ti ha nominata la nostra carnefice? ispirai profondamente e fu un respiro regolare senza nessun tramito un punto ornè la polizia bah con grande eleganza di vampiro scudoso faiamento impegnati ragazza trova l'assassino poi la faremo finita posso andare? certo sei al sicuro per stanotte perché questo vuole la master però non sarà sempre così usciamo dalla porta laterale? mentre ci adontavamo Zachary camminò quasi all'indietro per sorvegliare il vampiro e winter si trattenne a guardarci le spalle il svegliante apri la porta sulla notte calda e appiccicosa ed è il vento estivo umido, denso e bello mi schiaffeggia il volto ricorda il mio nome Valentine gridò il vampiro avrai mie notizie quando Zachary e gli fanno usciti la porta si richiuse luminosamente alle nostre spalle non poteva essere aperta dall'esterno perché era priva di maniglia si trattava di un passaggio di solo uscita ma uscire mi andava benissimo hai una pistola che spara i proiettili d'argento? chiese Zachary camminando si se fosse in te da adesso in poi me la porterei sempre appresso i proiettili d'argento non lo uccideranno però lo rallenteranno già per alcuni minuti continuavamo a camminare in silenzio mentre la calda notte estiva sembrava accarezzarci con mani viscose e curiose quello che mi serve è un fucile a canna mozza il svegliante mi guardò vuoi andare in giro tutti i giorni con un fucile a canna mozza? se la canna fosse abbastanza corta la giacca la nasconderebbe e Missuri? in piena estate ti scioglieresti già che ci sei perché non pensi in un mitragliatrice o magari a un lanciafiamme la mitragliatrice spara in raffica rischia di colpire qualche innocente il lanciafiamme invece è ingombrante e fa troppo casino posatemi una mano sulla spalla e il svegliato e il svegliato e il svegliato hai già usato il lanciafiamme per disorgere i vampiri? no ma l'ho visto usare oh per un momento e il svegliato 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 ha funzionato? magnificamente però ha fatto un gran casino la casa in cui ci trovavamo è andata a fuoco e mi è sembrato che possa un tantino eccessivo non ti dò torto riprendemmo a camminare devo aiutarli molti i vampiri riprese il svegliato non le odio affatto allora perché le distruggi? perché è il mio lavoro e lo faccio bene oltre una svolta apparve il parcheggio in cui c'era la mia automobile sembrava che fossero trasforsi parecchi giorni da quando l'avevo lasciata là invece non si trattava che di alcune ore come testimoniava il mio orologio era una sensazione analoga a quella del jet lag però invece di passare da un fusorare a un altro ero passato da una serie di eventi a un'altra una successione di eventi traumatici confonde il senso del tempo concentrando troppi avvenimenti in una porzione di tempo troppo breve io sarò il tuo contatto durante il giorno se avrai bisogno di qualcosa se vorrai trasmettere un messaggio ecco il mio numero disse Zegari consegnandomi una bustina di fiammiferi la guardai la scritta il circo dei dannati speccava a caratteri sanguigni su un profondo nero lucido poi la filai in tasca dei jeans recuperai la pistola del vano portaggetti indossai la fondina a scellare senza curarmi del fatto che non avevo nessuna giacca per nasconderla non c'è dubbio che una pistola abbia invisibile attiri l'attenzione però suggerisci anche di lasciare in pace chi la porta spesso la gente si fa addirittura da parte in tutta fretta lasciando il tempo libero se stai in secondo qualcuno non potendo chiedergli meglio Zegari attese finché non mi fu messa al volante e quindi si appoggia alla portiera aperta non può essere soltanto un lavoro Anita devi avere una ragione migliore abbassai lo sguardo e avviare il motore poi sollevai la testa a fissare gli occhi per dire svegliante ho paura di loro distruggere ciò che spaventa è una cosa molto umana molto naturale la maggior parte della gente passa la vita a evitare ciò che lo spaventa tu invece lo insegui è folle un punto a favore di Zegari chiusi la porta e lo lasciai solo nella calda oscurità lo suscitavi morti e dispensavo all'eterno riposo ai non morti era quello che facevo era quello che ero se mai avessi cominciato a indagare sulle modifizioni avrei smesso di indagare i vampiri era semplice quella notte insomma non avevo nessuna intenzione di dedicarmi all'autoanalisi quindi era ancora una cacciatrice di vampiri e meritavo il soprannome che quegli stessi vampiri avevano cognato per me era ancora la sterminatrice va bene quindi Anita al soldo di Nicolaus ha trovato un vampiro che pensava di aver ucciso ancora semi-integro insomma già deve vedersela con Nicolaus che è una bastardla che la vuole fare a pezzi ora c'è anche questo vampiro Valentine che a quanto pare le darà la caccia è in carico finito ma non la vedo molto rosia per Anita ah poi vabbè non diventiamo Obrei che a quanto pare comunque si ha hanno avuto uno scontro abbastanza spiacevole quindi al momento Anita si è fatta tre nemici uno era già un nemico da tempo però insomma si è fatta altri due nuovi tra cui una Master ottimo ma io personalmente se fossi in Anita cioè contatterei una squadra di sterminatori e andrei a infilarli un paletto su per il cuore ora che so che stanno tutti nei circuiti dannati che è questo locale vintage dove i vampiri danzano fa la festa di carnevale e mi eviterai i problemi durante il giorno così adesolverai gran parte dei problemi anche della città stessa però qui in Louisiana dove di fatto i vampiri adesso sono legalizzati nei siti umani mi sa che questo discorso non si può fare così facilmente toccato beh vedremo nei prossimi episodi nei prossimi capitoli cosa andrà cadere